Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui nei pressi di Milanello dopo la conferenza stampa del nostro allenatore. Giornata importante, giornata in cui l'Inter ha vinto, in cui l'Atalanta ha vinto. La dimostrazione di quello che ha detto il nostro allenatore, che insomma quando le squadre sono al completo, e noi non lo siamo ancora, avete sentito in conferenza stampa la notizia di Ben Nasser, quando le squadre sono al completo, fra le prime sette poi possono vincere molte partite e anche evidentemente gli scontri diretti a seconda di chi è più completo dell'avversario, di chi è meno in emergenza dell'avversario. Di tutta questa giornata in ogni caso si occuperanno tutti i siti di news, tutti i siti di informazione. Noi siamo particolarmente attenti a quello che pubblica OneFootball, che sta sostenendo l'attività di questo canale YouTube. OneFootball propone notizie e aggiornamenti in tempo reale dall'Italia, dall'Europa e dal mondo. OneFootball ha una app che potete scaricare gratuitamente dalla descrizione di questo video. L'app di OneFootball vi propone anche eventi live e partite in forma assolutamente gratuita. Dicevamo allora dell'importanza che ha recuperare i giocatori per il Milan. Chier e Brahim Diaz non sono lontanissimi dalla possibilità di tornare a essere convocati. Vedremo Ben Nasser come si svilupperà questo piccolo inizio di bronchite di cui ha parlato il nostro allenatore in conferenza stampa. È chiaro che il fulcro del gioco, prima lo riattivi, prima lo recuperi, meglio è. È chiaro che la storia del nostro centrocampo quest'anno è stata molto travagliata. Che si e Ben Nasser hanno finito di giocare insieme praticamente con continuità a fine novembre. E quindi a centrocampo poi ha giocato molto Tonali, ha giocato molto Cruni. C'è stata una partita a Milan-Lazio in cui anche lì eravamo scesi in campo dopo che l'Inter aveva vinto la sua partita ed era avanti in classifica. L'Inter vinse a Verona. Noi siamo scesi in campo con la Lazio largamente rimaneggiati, avevamo Tonali e Crunici a centrocampo, eravamo senza sia che sì che Ben Nasserra e riuscimmo a vincere la partita nel finale. Ecco, questo è un po' il senso. A centrocampo noi abbiamo avuto una storia di infortuni, di casi Covid, di situazioni, di vicissitudini particolarmente travagliata. E' per questo che abbiamo preferito inserire un centrocampista in più nella lista dell'Europa League, cosa che è andata purtroppo anche per questioni regolamentarie e normative a discapito di aughe. E a centrocampo avremo appunto che sì Ben Nasserra, Tonali, Crunici e Meite. Però adesso bisogna pensare solo al Crotone. Io, prima di venire qui a fare la chiacchierata con voi, ho scartabellato, ho consultato, ho compulsato la tastiera dello smartphone per capire Messias è squalificato. Loro hanno un dubbio in attacco, hanno il dubbio se schierare o meno Simi, anche a seconda delle sue condizioni fisiche, per cui potrebbe esserci una coppia in attacco Simi di Carmine, oppure Simi-Rivière, oppure anche Rivière di Carmine. Il Crotone verrà a giocare la partita, noi non possiamo permetterci di sottovalutare nulla, ce lo siamo già detti ieri, e quindi è molto molto importante in queste due giornate sfruttarle al massimo. Queste due giornate contro Crotone e Spezia sono delicatissime, noi non le diamo per scontate, per acquisite, per assodate. Tutte le partite bisogna scrostarle, sfangarle, sudarle, viverle sul campo, altrimenti diventa tutto molto teorico e con la teoria non si fanno i punti. Questa settimana ho notato un certo tipo di dualismo sui quotidiani, soprattutto fra Leao e Rebic, più avanti Leao, più indietro Rebic. Non è così, Rebic è un punto di forza del Milan, credo che domani ci sarà la possibilità di vederlo dal primo minuto. Il binario in particolare, secondo me, il binario Teo Hernández Rebic è un binario molto forte, è un binario in cui tutte e due hanno feeling, hanno punti di riferimento in comune e è un binario che aumenta esponenzialmente verso l'alto il rendimento di entrambi. C'è consuetudine, c'è familiarità, c'è varietà di colpi, insomma, Teo Hernández Rebic è un asse, è una corsia che ci dà più pericolosità, più letalità offensiva dal punto di vista proprio della pericolosità calcistica. E quindi mi sembra che siano sia Raffaele Au che Ante Rebic due risorse assolutamente disponibili, assolutamente utili, assolutamente spendibili per la nostra squadra in qualsiasi momento. Questa settimana è stata la prima in cui il Milan ha potuto allenarsi, allenarsi significa anche fare un po' di carico e scarico, cioè iniziare la settimana in relax, poi fare un po' di carico che può essere utile nelle partite. Non dimentichiamoci che la forza del Milan nel post-lockdown è stata determinata da quelle due o tre settimane tra l'allentamento del lockdown e l'inizio della stagione ufficiale nella seconda metà del mese di giugno. Il segreto del Milan post-lockdown è anche la grande preparazione atletica che il Milan ha fatto in quelle due o tre settimane prima di tornare a giocare, in Coppa Italia con la Juventus, poi con il Lecce in campionato, la Roma e così via. E quindi avere due settimane, certo ci sono le partite contro Crotone e Spezia, che sono due avversari rispettabilissimi, però è altrettanto vero che avere queste due settimane è importante per la semina, per l'investimento sulle nostre energie, sulle nostre gambe, perché è molto importante lavorare bene queste due settimane per poi andare ad affrontare il resto della stagione. È chiaro che se noi saremo bravi e fortunati, perché per vincere le partite chiunque deve essere bravo e fortunato contro chiunque altro, se noi saremo bravi e fortunati nel battere Crotone e Spezia poi potremmo anche iniziare la serie di riscontri diretti, ce ne attendono due tremendi, Milan-Inter e Roma-Milan, con una classifica magari diversa da quella di oggi. Però guai a noi a fare tabelle, noi andiamo in campo con tanto rispetto per noi stessi, rispettare noi stessi significa rispettare tutti gli sforzi che abbiamo fatto per arrivare fin qui. Il Milan probabilmente, anzi sicuramente, a inizio stagione, se ci avessero chiesto, se avessero chiesto anche a voi, a inizio stagione, firmeresti per il quarto posto? Probabilmente avremmo firmato tutti. Oggi firmeremo per il quarto posto? Non so, proveremmo a giocarci qualcos'altro e qualcosa di diverso. Quindi dobbiamo fare qualcosa in più da oggi in poi di quello che ci eravamo ripromessi di fare a inizio stagione. Perché è chiaro che alla fine, se arriveremo fra le prime quattro, sarà comunque una stagione importante, positiva, significativa, perché è dal 2014, dal marzo 2014, che il Milan non gioca una gara di Champions League ed è dal maggio 2013 che il Milan non si qualifica per la Champions League. Quindi tornare a respirare un certo tipo di ambito, un certo tipo di contesto, un certo tipo di storia è assolutamente importante e significativo. Però oggi saremo anche contenti di arrivare fra le prime quattro, ma magari eviteremo di firmare per il quarto posto, quantomeno oggi. Insomma, poi vediamo cosa succede fra un mese, un mese e mezzo o due mesi. Quindi è chiaro che se noi... Perché Paolo Maldini e Stefano Pioli continuano a dire che dobbiamo essere ambiziosi? Perché se tu sei ambizioso cerchi di migliorare te stesso. Perché se noi a inizio stagione avremmo firmato per il quarto posto e oggi magari non metteremmo la penna sul foglio di carta, vuol dire che abbiamo alzato l'asticella rispetto al rendimento di noi stessi e se vogliamo alzare l'asticella dobbiamo assolutamente fare meglio. Dobbiamo assolutamente fare di più, anche di quello che abbiamo fatto nelle ultime partite. Per cui su questo si è lavorato molto, oltre che sul piano tattico, oltre che sul piano atletico, oltre che sul piano della gestione delle energie e del recupero dei giocatori, perché allenarsi fa sempre stare meglio i giocatori. Anche su questo aspetto di carattere psicologico si è lavorato durante la settimana. Milanello avrete visto, non sto parlando di pura teoria, avrete visto ultimamente Raffaele Ao come è più intenso e presente durante le partite. Quindi vedete con i giovani, i giovani magari si trancia un giudizio qualche mese fa e oggi già si vede il cambiamento. Perché Raffaele Ao come atteggiamento è diverso a Milanello, è più presente, più intenso, più preciso, più tutto, e in campo lo si vede, ne è una diretta conseguenza. Quindi questo spesso intendo per crescita, per crescita da parte di una squadra, di un progetto, di una proprietà, di una società, di una dirigenza, di un allenatore, di uno spogliatoio che vuole continuare a crescere, lavorando ciascuno su se stesso, perché è lavorando su se stessi che si cresce. E domani dobbiamo lavorare bene e in maniera importante anche contro il crotone di Giovannino Stroppa, che abbiamo e che avremo sempre nel cuore. Ciao a tutti, a domani da San Siro.